ed eccoci qua ragazzi primo weekly vlog oggi sono le 2 40 di lunedì pronti per il turno di lavoro adesso si parte per andare a lavoro questa settimana sarà abbastanza intensa anche per quanto riguarda il canale quindi state a seguire il video e adesso si parte per andare a lavorare ragazzi perché qua si lavora si lavora oltre a fare lo youtube lo youtube provare a fare lo youtube quindi eccoci in macchina adesso aspetto che si scaldi un attimo poi si parte e noi ci vediamo dopo il turno di lavoro faccio panettiere per chi non lo sa e a dopo a iscrivetevi al canale ciao eccoci ragazzi finito per oggi il turno di lavoro si torna a casa torna a casa alessi finito presto oggi viene iniziato presto tre mezza nove e mezza sei ore lunedì domani sarà un altro giorno di lavoro però adesso non so se devono arrivarmi qualche qualche pacco nel pomeriggio adesso si va a casa si riposa un po' si riposa un po' a dopo è arrivata la corriera con il pacco ragazzi è arrivato un primo pacco dovevi prendere giù anche con ieri iscrivetevi al canale per sapere cos'è oggi ragazzi ritiro pacchi pacchi da tutte le parti stanno arrivando adesso devo andare a prendere un altro da un'altra parte mi sento un po' poste italiana oggi quindi lunedì giornata pacchi eccoci di ritorno a casa anche l'ultimo pacco l'ho recuperato ovviamente questo non è per me ma è per casa quindi niente ragazzi ritiro pacchi fatto effettuato queste sono le mie bestie le mie bestie ragazzi adesso magari andiamo a fare un giretto a piedi e niente noi ci vediamo direttamente domani domani ragazzi eccoci passeggiata a piedi per il paese qua non c'è in giro proprio nessuno deserto è un paese deserto ogni tanto però vai adesso sto mettendo fuori le luminarie buongiorno ragazzi oggi martedì secondo giorno della settimana non so se si sente qualche rumore ma fuori piove e quindi si parte anche oggi per andare a lavorare poi oggi pomeriggio non ho ancora dei piani però vedremo in giornata se farò qualcosa anche perché piove comunque le giornate di questa settimana saranno mercoledì giovedì il sabato e niente si parte per il lavoro ragazzi turno di lavoro finito oggi piove giornata dal cavolo niente però molto gasato per domani perché un bel test ride che penso che avrete già visto se l'avete già visto mi metto lì in alto a destra così da poter andare a vedere il video se non l'avete visto un bel test ride e niente domani ancora giornata di lavoro poi nel pomeriggio appunto si va a fare questo test ride poi giovedì c'è una bella cosa da fare però state connessi al video a dopo ragazzi eccoci ragazzi sono in garage sono andato a montare sto andando a montare questo questo accessorio per la GoPro diciamo ho in mente novità quindi vado a montare questa roba qua sullo specchietto per nuovi upgrade quindi andiamo a montarlo spero di riuscire ok ecco qua risultato finale arriveranno novità sicuramente state connesse al canale ragazzi e per oggi diciamo che è tutto ho fatto una cosa grave ragazzi ho lasciato un navigatore attaccato mi sono accorto adesso però adesso facciamo una cosa che non avete mai visto ovvero la faccio ripartire guardate ragazzi moto che non partiva adesso facciamo partire no non parte eccoci ragazzi oggi mercoledì ieri sera diciamo è stata un po' drammatica la situazione perché in pratica avevo lasciato attaccato il navigatore alla moto quindi poi sono andato un po' in panico però avevo caricatore e stamattina ho visto che è partita quindi a posto adesso ho finito di lavorare si va a casa si mangia ci si cambia e si va e si va a fare il test ride che penso avrete già visto e niente poi avevo anche lo starter il booster che di solito funziona però ieri si vede che non l'avevo caricato e niente comunque ho tenuto la batteria sotto carica tutta la notte e fortunatamente è ripartita e niente ragazzi adesso si va a casa dopo il lavoro tra notte ho dormito davvero poco però vabbè domani sono a casa di riposo cioè non sono alla casa di riposo sono a casa con il giorno di riposo ecco quindi ragazzi a domani cioè a dopo eccoci ragazzi in moto e andiamo verso il luogo dove si farà il test ride ovvero mazzola moto eccoci ragazzi adesso vado a scaricare quello che è il registrato della prova del test ride e inizio a montare poi domani sono a casa magari stasera mi do un po' al montaggio video ecco qua vediamo cosa è uscito ragazzi non ha registrato l'audio esterno del microfono esterno quindi dobbiamo fare un bel audio sopra eccoci qua ragazzi giovedì giovedì oggi quindi a mezza metà settimana oggi è il mio giorno di riposo quindi mi sono svegliato un po' più tardi dal solito adesso adesso si va a prendere uno di voi che è arrivato su da Palermo per acquistare una moto se vorrà che che lo riprendo dopo vi farò vedere chi è comunque acquistato una moto qua a Bergamo andrò a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo ciao ciao ragazzi spettacolo queste cose qua è possibile solo fare con youtube ragazzi ragazzi con Ignazio direttamente da Palermo ragazzi non so chi se la ricorda anche la moto bellissima complimenti Ignazio grazie andiamo solo a portarla a Palermo niente abbiamo salutato Ignazio che saluto ancora se stava vedendo questo video che con la sua Kawasaki Z750S che per chi si ricorda era la mia prima moto la mia prima moto niente lo salutiamo e adesso speriamo che arrivi a Genova dove prenderà il traghetto è stato un piacere conoscerti Ignazio spero di vederti presto magari giù in Sicilia e niente buona strada ottima scelta e ottima moto ragazzi a dopo a dopo ragazzi grazie ancora Ignazio spettacolo bella oh cane grossi bella e lo mangio maglio eccoci ragazzi oggi sabato siamo qua davanti al BG Kart Indoor oggi facciamo un bel gran premio sabato pomeriggio non vi ho fatto vedere venerdì che tanto ero noioso poi vabbè domani vediamo forse dovrei registrare qualche video a casa e niente adesso magari dopo vi faccio vedere un po' i go kart azok so ine dis y as 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 us as as io capito io eccoci ragazzi domenica pomeriggio ho lavorato oggi la mattina poi vabbè ero un po stacco quindi non ho fatto niente però adesso mi metto a montare un po di video per giovedì che dovrebbe uscire appunto questo video quindi ragazzi se vi è piaciuto questo questa specie di video questo weekly vlog è stata una prova vorrei fare uscire diciamo un secondo video settimanale quindi fare due uscite settimanali sempre la domenica e poi uno infrasettimanale con una con questa magari specie di video o qualcos'altro poi si vedrà comunque grazie ancora un pollice in su se vi è video ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità ragazzi quindi grazie ancora e alla prossima ciao ciao